all'epoca dove un naming, cioè io quando per esempio sento dire alcuni e non faccio nomi ah però possiamo trovare un naming per lo stadio San Paolo, oggi non ci stanno i soldi nemmeno per piangere, se uno va a chiedere un naming ti fanno la termacchia di naming allora sai tu ti rendi conto anche che i tuoi interlocutori sono degli interlocutori quindi mio padre le verità, la paziente rimane anche pure, no? allora uno ne rende atto, io ormai, perché amo molto questa città, amo molto i napoletani come si diceva, non te ne curare e passa avanti quindi dicevo che è un gioco ovviamente a un forte potere mediatico che li sostiene in ogni momento e hanno anche un sostegno armicale, un gesto che li dicano loro che li sostiene durante la stagione dei momenti difficili la domanda è questa, nonostante tutto questo il Napoli questo è capitato un regolo a Roma, ieri mi pare di aver letto questa mattina sulla stampa nonostante tutto questo il Napoli mi sembra sia cioè l'hanno regalato da noi e hanno fatto un guai a un'altra parte ma direi di quello che dice la classifica, per espressione di gioco, non per il fatto che abbia vinto perché so che quella cultura del bel calcio, la cultura che ormai da partire a me anche vedere il bel calcio, non a caso è scelto Benitez e la cultura del bel calcio ci porta a dire che la distanza non è poi tanta quanto serve per colmarla? visto che secondo me la classifica non è l'ospetto fedele di quella che è la reale no ma non è un problema di colmarla signori miei, qui noi dobbiamo fare un budget totale di solito uno quando la mattina esce di casa e va a fare la spesa e dice quanti sono dicio le tasche, poi la tua fantasia, la tua cultura quando vai e vedi al mercato certe cose, c'è la rinnessa che non so come faccio a lasciarla lì sul banco, è così invitante e allora ognuno si fa i propri conti e io ho fatto i conti del calcio italiano e i conti del calcio italiano è tutto sballato allora è inutile che i giornalisti continuino a dire bisogna prima denigrano il calcio italiano che è già un grande progetto perché dovrebbero denigrare coloro i quali hanno creato i presupposti di un calcio italiano meno forte in Europa non sempre ricordarci che noi stiamo perdendo posizioni allora sono due le cose o noi cambiamo in Europa qualche cosa o noi cambiamo in Italia qualche cosa perché credo che sarebbe molto difficile cambiare in Europa qualche cosa siamo noi che in Italia dobbiamo andare in federazione mettere tutti i seduti intorno al tavolo e dire signori il calcio italiano così non può più sopravvivere non può più andare avanti quindi c'è stata una evoluzione culturale in questi ultimi vent'anni non possiamo più fare il calcio come si pensava vent'anni fa quindi dobbiamo fare una serie di modifiche ne dobbiamo prendere anni quindi dobbiamo parlare di che cosa fare con la serie C di che cosa fare con la serie B di che cosa fare con la massima serie A di che cosa fare con i giovani di che cosa fare con gli extracomunitari del perché in Europa c'è questa disparità tra Portogallo, Belgio e Italia delle nuove frontiere che spingono e ci dobbiamo affrezzare e organizzare per affrontare il calcio del prossimo decennio perché noi fra dieci anni ci troveremo una Cina fortissima, un'India fortissima degli Stati Uniti fortissimi a livello di calcio e non ci possiamo far mangiare dagli altri per non parlare dell'Africa quindi noi non possiamo più dire in Portogallo si fa così in Belgio si fa così in Olanda si fa così in Inghilterra dobbiamo fare un ragionamento univoco ma questo è un po' più complesso e complicato allora intanto dico dobbiamo partire dall'Italia e in Italia dobbiamo guardarci negli occhi al di là di una continuiti ricercata nelle nomine le nomine le dobbiamo mettere da parte cioè l'istituzionalità non ha niente a che vedere con il calcio S.P.A. allora non ci vogliono né se né ma e né io voglio essere un radicale ma voglio essere uno che dice una società per azioni ha queste esigenze quindi via le leggi 81 e tutto quello che ne arriva nel passato via, zerato tutto via il problema del diritto sportivo contrapposto al diritto normale quindi io devo creare nel diritto normale una corsia preferenziale per lo sport qualunque sport sia con delle accelerazioni perché non si può aspettare è chiaro il ragionamento ma non è che devo creare due centri di potere perché questa Italia purtroppo è il paese dei poteri e i poteri sono limitanti sono limitanti e sono antidemocratici allora nella industria e qui siamo nell'industria del calcio l'antidemocraticità va bandita non ci deve essere deve vincere la capacità di impresa e con essa il mercato se il mercato non risponde vuol dire che la capacità di impresa è venuta meno è chiaro il ragionamento allora fino a che noi non faremo questi ragionamenti in maniera obiettiva e culturalmente acquisita cioè fino a che questo concetto non farà parte del nostro DNA e allora continueremo a parlare della FIGC continueremo a parlare della Lega continueremo a parlare degli armini continueremo a parlare della Moriola continueremo a parlare di umane distronzate che sono importanti ma che non è il nostro futuro il nostro futuro è capire come possiamo essere competitivi a livello universale mondiale cioè dall'84 io sto cercando di spiegare non riesce a essere capito che il global la mondializzazione non è un fatto negativo è un fatto che non puoi arrestare allora tanto vale che noi ce ne ne prendiamo alto e tiriamo fuori tutto ciò che serve per affrontare l'oceano che è diverso l'onda lunga è diversa dall'onda corta e se io sono abituato nel mare più difficile che il Mediterraneo non è detto che vanno nel Pacifico o nell'Atlantico e riesco a navigare bene perché probabilmente non ho la barca adatta o non mi sono strutturato per affrontare quel viaggio quindi è un problema sempre culturale e le cose si fanno progressivamente ma si deve cominciare se non si comincia mai e si rimanda sempre perché se no io non prendo i voti di qua io non prendo i voti di là e si danno le nomine sempre tra amici e non si va andare a nessuna parte vedete che Renzi ogni mattina dice io mollo e probabilmente mollo perché trovo un field ostile fatto di poteri che non riesco allora che faccio io che mando a quel paese poi andiamo alle elezioni e allora avrò l'87% degli italiani che forse mi voterà e a quel punto poi prendo in mano l'Italia e bisogna sempre fare questi atti di forza in questo paese cioè è molto strano tutto ciò cioè l'incapacità del fruitore quindi io sono un supporter di quel club e perché non mi ascolti se io ho queste esigenze che io appartenga allo stadio virtuale o appartenga allo stadio reale mi devi ascoltare io faccio il mercato quindi il mercato l'ha studiato e quindi per affrontare il mercato io devo cambiare il sistema perché il sistema è sbagliato un sistema radicato e formato su un concetto ancestrale di quando i club erano club erano una società per azioni e dove non esisteva afferture finanziarie non esisteva regole non esisteva nulla ma non posso andare avanti con le regole di 1981 oggi siamo nel 14 20 anni fa 34 33 quanti anni fa e ma mi rendete conto cioè basterebbe messo quindi ragazzi fuori dalle scatole tutti quanti siete scaduti decaduti e scaduti basta non vi si può mangiare perché ci prende un attacco di risentere è chiaro il ragionamento e ci disidrateremo allora noi dobbiamo far tabula rasa e in questo mi dispiace bisogna essere radicato io non sono un radicato io sono sempre uno che cerca in maniera dialettica di risolvere i problemi però poi vi trovi di fronte i muri i muri e i muri 6 anni 6 anni 6 anni 6 anni 6 vraag 6 anni e